Buon pomeriggio amici di Gossip Mania. Eccoci qui, ben ritrovati al nostro appuntamento pomeridiano con tutto ciò che succede non solo in Italia ma anche nel mondo per quanto riguarda lo spettacolo, il cinema, la musica perché questa è una settimana molto intensa per quanto riguarda la musica italiana. Infatti parleremo anche oggi del Festival di Sanremo e anche di qualche pettegolezzo perché poi ovviamente sono all'ordine del giorno ma prima di iniziare ben ritrovata Elvira Vigliano. Ciao Alessia, ben ritrovata. Bene, iniziamo subito Elvira perché c'è stata la più attesa, possiamo dire, serata del Festival di Sanremo che è finito sempre più tardi. Infatti è veramente un'operazione. È un stilicidio questo Sanremo. Sì, ieri guarda ancora di più perché si sono esibiti tutti i cantanti in gara a differenza delle serate precedenti nelle quali erano stati splittati in due, quindi ci sono stati questi duetti. In realtà molti me l'avevano già detto, non ti aspettare troppo dai duetti perché non ne stanno parlando proprio bene. Infatti, diciamo, già la prima cosa che mi ha colpito della serata è che subito Amadeus ha detto, in realtà questa sera voterà l'orchestra ma ha già votato nel pomeriggio. Questo dettaglio ha fatto capire che, insomma, la questione delle prove può aiutare come non può aiutare. Però allo stesso tempo, insomma, la giuria demoscopica potrebbe anche invalidare questa classifica che poi abbiamo visto è stata poi tutta particolare, sono cambiate completamente le dinamiche. Devo dire che forse, se non l'avesse detto, sarebbe stato meglio perché ha svelato una serie di dettagli che sicuramente era meglio tenere per sé. E sì, anche perché effettivamente nulla cambiava, insomma, soltanto magari da casa non si vedeva il meccanismo proprio di voto nel momento clue in flagranza, però assolutamente a noi non è cambiato molto. Iniziamo parlando sempre dei conduttori, Amadeus e Fiorello sono morta da ridere quando Fiorello si è arrabbiato poiché effettivamente è stato chiamato sul palco la prima volta verso le 9 quando iniziato il festival, la seconda volta praticamente dopo le 10 e mezza, 10 e mezza 11 più o meno. Si è arrabbiato tantissimo, io credo fosse una gag però un minimo di verità c'era. Una verità c'era perché effettivamente in quell'ora non c'era molto da fare, quindi insomma stare dietro le quinte ed aspettare che qualcosa accada o che ti chiamino, di certo non puoi nemmeno entrare sul palco e disturbare insomma la situazione, quindi è stato divertente però allo stesso tempo con Fiorello c'è sempre un filo di verità. E sì anche perché giustamente annoiandosi da solo dietro le quinte si è posizionato in prima fila tra le poltroncine nuovamente vuote perché non c'erano nuovamente i palloncini ed è stato lì con la sua mascherina come unico spettatore del festival. E poi ha fatto irruzione sul palco lamentandosi appunto con Amadeus di essere lasciato un po' in disparte visto il ritmo veramente frenetico della serata a differenza delle altre dove invece qualche buco doveva essere riempito. Sì e questo insomma fa anche pensare che lui non fosse d'accordo con questo ruolo di riempimento però devo dire che in ogni caso riesce anche a disporre quelli che sono poi i pensieri nostri da casa, quindi questa cosa ci fa sentire partecipi di questa Kermess ma ieri sera effettivamente ci si alternava gli uni agli altri e non c'era nemmeno spazio per respirare. E' vero, è vero, è assolutamente vero, altra gag molto divertente che poi è stata reale con le problematiche che ne sono derivate è il taglio del baffetto da parte di Amadeus che ha sbagliato effettivamente il verso del rasoio causando una forte irritazione persino era proprio ferito. Sì effettivamente insomma loro sono abituati ad una cura particolare e questo gesto è stato abbastanza eclatante perché tutti quanti ci aspettavamo insomma che sapesse almeno utilizzarlo e invece ci fa capire che non è proprio così. Poi noi donne lo sappiamo radere così a crudo è una cosa veramente terribile. Non si può perché poi insomma le conseguenze sono negative. Le abbiamo viste infatti come ospite della serata, ospite femminile ne abbiamo viste vari ovviamente anche tra attrici, cantanti dei vecchi festival ma i riflettori sono stati puntati tutti su di lei. Vittoria Ceretti la bellissima top model della quale abbiamo parlato anche nelle scorse puntate sostituta dopo il forfè di Naomi Campbell bellissima infatti ha scherzato tanto anche con Fiorello posando proprio nella sua statuaria bellezza con questo vestito in primis dorato a sirena veramente fantastico un altro vestito un po' vedo non vedo con una scollatura laterale ma molto fine ed elegante assolutamente non volgare. Non sono mancate però le critiche perché i paragoni ci sono stati tra Naomi e lei però io credo che in questo settore non bisogna fare dei confronti, dei paragoni perché si tratta di due bellezze completamente diverse. Certo è che hanno iniziato anche a prenderla in giro per alcuni difetti che si potevano notare. La regale è sciolta devo dire la verità e devo dire l'opposto anche della Campbell perché lei è molto posata e molto seria quindi sicuramente avrebbe fatto un discorso dal punto di vista sociale come abbiamo già detto ma non sarebbe stata poi così tanto al gioco quindi forse questo forfè è stato positivo. Il Made in Italy ci piace sempre portare avanti tanti talenti e le eccellenze italiane veramente in ogni settore quindi ci fa particolarmente piacere soprattutto in questo periodo storico molto particolare. Super ospite della serata è tornato Zlatan Ibrahimovic che ha raccontato un episodio che sembrava tanto inventato e invece era reale come abbiamo scritto anche sulle pagine dei nostri quotidiani online. Infatti Zlatan è arrivato con un fortissimo ritardo più o meno verso le 10.30 sul palco dell'Ariston Amadeus era preoccupato e ha raccontato il campione del Milan che effettivamente era rimasto imbottigliato in autostrada durante un incidente. Dopo tre ore di attesa non ce la faceva più aveva capito che ormai la sua presenza all'Ariston era compromessa ha fermato un motociclista e gli ha pregato di portarlo a Sanremo motociclista che stava andando da tutta altra parte stava andando a Livorno ma fortunatamente era tifoso del Milan e l'ha accompagnato in moto infatti ha mostrato anche un video a testimonianza di tutto questo episodio. diciamo che questo motociclista penso che adesso non lavi più la moto perché si è seduto dietro di lui Zlatan però devo dire che responsabilità poi effettivamente insomma non riesco a capire forse insomma vederlo così per strada non so che impressione possa fare però vedere il proprio idolo per strada che ha bisogno di un passaggio e tu ti ritrovi lì per poterlo aiutare insomma sicuramente è una situazione particolare però insomma questa gag è stata carina perché ha fatto capire che insomma anche Braimovic non è una persona insomma così su di tono insomma cerca sempre di stare al passo e di raccontare anche sventure che accadono a tutti noi. Sì ieri poi molto sorridente con l'intervista insieme al suo grande amico il tecnico del Bologna Sinisa Mijailovic in questa intervista veramente a cuore aperto dove Mijailovic ha parlato anche della sua malattia come l'ha affrontata come l'ha superata quindi è stato un momento molto toccante e poi hanno cantato tutti insieme anche a Fiorello e a Amadeus io vagabondo e lì si sono proprio divertiti anche se i tifosi del Milano hanno detto meglio Ebraimovic in campo e non su un palco a cantare. Le nostre orecchie sanguinavano ma mai come in un altro momento che diremo tra poco. Le mie parole lo sai Alessia non sono mai dette a caso. Esattamente sei stata profetica ti dico solo questo. Devo dire che però è stato un momento molto toccante perché Sinisa è una persona che ha sofferto molto e a cui tutti noi siamo legati quindi essere accompagnato da Ebraimovic in questa nuova serata ha permesso a lui anche di alleggerire la sua vita che soprattutto nell'ultimo periodo è stata molto particolare. E' vero poi sono personaggi contraddistinti per il loro grandissimo carattere quindi vederli sorridere e parlare anche di cose molto serie poi ha fatto sicuramente bene e ha trasmesso un messaggio importante davvero a tutti. Parlando ancora di ospiti c'è stato il terzo quadro di Achille Lauro che ci ha regalato l'emblema di una statua dorata, bronzea e molti hanno detto assomigliasse alla 500 lire, alla monetina. Effettivamente insieme ad Emma in una performance bellissima veramente molto molto bella e profonda e come hanno poi sottolineato in molti dietro a quella performance di 4-5 minuti c'è un grandissimo lavoro. Sì è quello che avevamo anche detto nelle scorse puntate insomma lui cerca di portare sul palcoscenico non soltanto se stesso ma cerca anche di aiutare il pubblico a interpretare quello che sta cantando. E sicuramente man mano insomma che andiamo avanti nelle serate ci sta riuscendo sempre più e anche la scelta insomma di Emma è stata mirata quindi molto giusta. Promosso anche questa volta è vero è stato un escalation dalla prima alla terza serata piace sempre di più quindi è verissimo con tutta la sua organizzazione di questi quadri. Altro ospite importante che mi fa piacere ricordare è stata Antonella Ferrari attrice che ha posto sotto i riflettori due problematiche molto molto serie. In primis la sclerosi multipla della quale lei soffre ma veramente ha portato sul palco un monologo, un grido di battaglia a non mollare ma soprattutto di speranza a tutti coloro che soffrono della stessa patologia. Ponendo ancora una volta la problematica anche degli operatori dello spettacolo e dei teatri che ormai dovrebbero anzi riaprire a breve il 27 ma in molti sono falliti che veramente stanno vivendo un momento molto difficile. È stato un intervento molto importante perché poi come abbiamo detto anche a Focus Sanità insomma ci sono delle malattie che in epoca Covid vengono dimenticate e questa cosa è molto importante soprattutto se viene fatta da un ospite che ha alle spalle insomma una carriera fondamentale che è riuscita nonostante la malattia insomma ad essere una persona forte a continuare la propria carriera. Sicuramente insomma le problematiche del Covid sono maggiori in questo periodo però non bisogna dimenticare che ci sono altre persone che soffrono di altre patologie e che fortunatamente soprattutto insomma nel nostro territorio non sono mai state messe da parte quindi questo messaggio è stato fondamentale e di ispirazione per molti. Sì ispirazione per molti e lo stesso messaggio è stato il fulcro anche del duetto dello stato sociale con tantissimi operatori proprio del mondo dello spettacolo anche con Panno Fino veramente in un duetto che a me è piaciuto tantissimo forse è stato uno dei più belli centrati e mirati della serata che non solo hanno cantato una bellissima canzone di Manuel Agnelli che io adoro ma soprattutto l'hanno legata con questo fil rouge molto delicato ma anche molto forte proprio a questa problematica dei teatri chiusi e hanno proprio portato il messaggio stiamo soffrendo adesso ma non sarà per sempre. Questo è un messaggio anche importante perché insomma il mondo dello spettacolo è stato un po' messo da parte e forse grazie a Sanremo insomma è stato possibile anche riaprire i teatri, riaprire questi spazi per rendere insomma ancora viva la cultura. Ci sono state tante polemiche però anche le manifestazioni del mondo dello spettacolo insomma sono state non poche e sicuramente insomma a fine mese dovremmo avere la certezza di qualche riapertura. Ovviamente questo stop è costato caro a tutti coloro che lavorano in questo ambito e sicuramente insomma non è stato facile per loro andare avanti. Esattamente ma c'è tanto ottimismo lo speriamo davvero dopo quest'altro periodo molto difficile per quanto riguarda l'epidemia covid soprattutto qui in Campania con decisioni veramente attese nelle prossime ore, nelle prossime giornate però c'è la speranza che grazie ai vaccini, grazie a una programmazione serie oculata veramente si possa uscire da questo brutto momento che dura ormai da un anno, giusto giusto un anno in questi giorni. Noi ci fermiamo per un attimo di pubblicità e vi parliamo nella seconda parte di tutti i duetti del Festival di Sanremo a tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania, un occhio attento su tutto ciò che avviene in città, benvenuti su Notix, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport H24 ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e Youtube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it Ben ritrovati amici di Gossip Mania, stavamo chiacchierando ovviamente sul Festival di Sanremo che ha catturato la nostra attenzione in questa settimana. Vi abbiamo già parlato del primo duetto che ci ha colpito, quello dello stato sociale, ed adesso ne analizziamo un altro. Avevamo detto già nella puntata di ieri che stavamo attendendo con grandissima ansia il duetto di Arisa con Michele Bravi che hanno scomodato tutta la magia e la poesia di Pino Daniele con Quando. E devo dire la verità Elvira, a me il duetto è piaciuto, anzi mi correggo. La parte di Arisa mi è piaciuta tanto, quindi si è riscattata forse da questa mancanza di cuore che non avevamo visto nella prima performance, Michele Bravi mi ha convinto un po' in meno. Sì, insomma io mi aspettavo il contrario, nel senso che mi aspettavo che Michele Bravi potesse dominare il palcoscenico e che Arisa venisse messa un pochino da parte. Invece questo non è accaduto e forse tutto ciò è legato anche ai trascorsi di Michele Bravi perché ha passato un periodo molto particolare in seguito a un incidente che lui stesso ha provocato. Insomma ne è uscito con lentezza da questo periodo e sicuramente anche a livello canoro ha perso un pochino perché non è stata la prima canzone che ha cantato, però anche in altri appuntamenti ha dimostrato di non essere proprio al top. Probabilmente questo è anche dovuto al dimagrimento effettivo che ha avuto, però insomma speriamo che ci sia l'opportunità di riprendere quella che era la sua melodia, la sua voce. Fatto sta che all'orchestra è piaciuta tantissimo l'esibizione di Arisa, infatti è risalita magicamente in classifica e questo mi fa piacere poiché mi piace molto la canzone e sono certa che anche nelle serate di stasera e domani potrà fare bene anche in sede di performance sul palco, quindi l'attendiamo. Sì, questo è stato positivo per lei anche perché insomma ci aspettavamo tutti quanti che da questo duetto sicuramente insomma entrambi avrebbero raggiunto un livello alto e invece insomma l'opportunità anche se non sbaglio nella prima parte si trovava già al secondo posto insomma, quindi è stato positivo cercare di riscattarsi e cercare di avere uno spazio all'interno di questa classifica perché nei giorni precedenti insomma non risultava per niente. Sì, sì, infatti il look invece da rivedere sembrava un po' in pigiama quindi non bocciatina diciamo sul look, ma ci possiamo lavorare quindi siamo fiduciosi, ci piaceva più in versione corallo con il rubinetto tra i capelli, esattamente, che poi ho scoperto anche perché è il rubinetto, scusatemi off topic del momento duetti, perché in realtà ha l'extension, ha messo l'extension, che questa cosa ancora devo capirla insomma, ha scelto, e prima si tagliano i capelli poi si mettono l'extension. Stava bene con questo taglio di capelli corto perché effettivamente snelliva anche il suo viso, poi queste unghie lunghe, questi capelli lunghi insomma, questo mostrarsi anche generalmente con un trucco particolare e con abiti poi di dubbia insomma bellezza, certo è che insomma stupisce, però se devo dire che a livello di look in tutto Sanremo ci troviamo ad alti livelli, beh. No, è vero, sono molto rari gli outfit che sono stati promossi. Adesso ti invito sicuramente a nozze perché ieri l'avevamo detto che dietro alla scelta del duetto di Joe Evan c'era sicuramente una scelta strategica ed è andato ben oltre le nostre aspettative già molto basse, devo dire. Sì, inesistenti. Esatto, già inesistenti. Infatti Joe Evan, come vi avevamo anticipato ieri, ha scelto di cantare insieme a quattro dei protagonisti del Talent, The Voice Senior, che devo dire la verità hanno meritato assolutamente il palco di Sanremo, hanno dominato la canzone degli 883 gli anni, Joe Evan si è seduto al centro del palco quasi impaurito, forse ben conscio dei suoi limiti vocali ed ha fatto un peggio del previsto perché poi persino alla fine è imbarazzato e scappato via, non ha aspettato neanche i suoi ospiti. Non ho capito che cosa è successo, dico la verità, perché è stato un momento, un epic fail di Joe Evan in cui tutti quanti, sai, dicevamo, ma bene, ce la sta facendo, ce la farà, ce la farà, ce la farà, niente, non ce l'ha fatta e sicuramente è legato anche alla presenza, insomma, di queste voci possenti che hanno dominato il palco e questa scelta non è stata azzeccata, soprattutto perché lui, come avevamo detto, insomma, ha alcune mancanze a livello vocale e ancora deve capire la sua strada. Però, insomma, non so quanto questa cosa possa poi pesare sulla classifica finale. Eh sì, per il momento non sta convincendo, soprattutto da parte dell'orchestra, poi ovviamente che se ne intende di voce, di musicalità, quindi si devono comunque votare gli artisti e i cantanti in gara, non gli ospiti, quindi. Assolutamente risultato scontato. Un altro duetto particolare, arrivato anche abbastanza tardi, è stato quello tra la rappresentante di lista, con un look di libera ispirazione rispetto a quello di Arisa, con questi colori molto forti, l'avevamo vista anche nella serata di ieri con questo completo fucsia, quindi colori sgargiantissimi, e Donatella Rettore. Devo dir la verità, in questo caso la Rettore ha lasciato tanto spazio alla rappresentante, tant'è vero che è intervenuta nella sua canzone, Splendido Splendente, quindi un capolavoro della musica italiana, soltanto nel finale. Lì gli acuti ovviamente si sono sprecati, infatti ho dovuto abbassare il televisore perché più o meno era luna di notte, quindi grande spolvero. Arrivava qualche volante, qualche pattuglia. Esattamente, c'è assembramenti in casa, noi saremo a tutto volume. Devo dire che la Rettore, insomma, è un personaggio che domina il palco, come quelli di The Voice Senior, però insomma in tutte le sue apparizioni è sempre stata quella lì che, insomma, predominava maggiormente rispetto agli altri. Invece ieri sera lasciare spazio alla rappresentante, insomma, è stato sicuramente un gesto molto importante. Ovviamente la Rettore è una donna bellissima, si è rifatta, tutto quello che volete. Però sempre molto in forma, è vero? Sempre molto in forma e questo gesto che ha fatto, secondo me, ha dimostrato anche la sua grande eleganza. È vero, infatti non tutti gli ospiti, devo dire la verità, hanno lasciato spazio con rispetto agli artisti. In gara, un altro bellissimo duetto fuori scaletta, ma assolutamente lo inseriamo a volo, è stato quello tra Manuel Agnelli e Maneskin, con Damiano che ha conquistato i cuori di grandi, piccine, anche il mio, ma ormai da sempre, praticamente. Con veramente un duetto di grandissima tecnica e intensità, ovviamente la musicalità, soprattutto live dei Maneskin, è inutile che siamo qui a ricordarla, un duetto che è piaciuto tantissimo a tutti, ma hanno scomodato Manuel Agnelli, che è veramente una certezza della musica italiana. Questa è stata una scelta importante, perché effettivamente i Maneskin, come l'avevamo detto, hanno iniziato lentamente, dando però al pubblico sempre qualcosa in più. E questa crescita si evince poi anche dai testi e dalle scelte dei duetti. In questo caso la scelta è stata ottima. Irama continua a cantare il registrato, da casa, che poi sta bene in realtà, quindi è stato veramente particolarmente sfortunato, speriamo ovviamente che stia sempre meglio, ed è anche molto alto in classifica, poi parleremo della classifica tra pochissimo. Altro duetto che a me è piaciuto tanto, perché sono legatissima a questa canzone, è stato quello tra Willy Peiote e Samuele Bersani, già l'avevamo predetto, ma doveva essere per forza così, che hanno cantato Giudizi Universali. Un vero e proprio duetto, infatti si sono alternati poi nel cantato. C'è stata tanta intensità, tanta emozione, anche qualche sbavatura, come poi ce ne sono state tante in questo festival e in questi giorni, ma forse hanno dato poi proprio quel surplus di cuore che da casa volevamo. Sì, quando si parla di duetti di solito si tende ad associare una voce femminile, quindi più leggera, ad una voce maschile più prepotente. In questo caso abbiamo visto che le scelte sono state completamente diverse, senza seguire una strategia. Però nel caso di Peiote la scelta è stata importante perché si sono alternati con due vocalità molto simili, quindi da questo punto di vista c'era equilibrio. Il problema però è stato la presenza di sbavature che a lungo andare hanno un po' infastidito. Anche da parte di Samuele Bersani, quindi forse c'era un po' di emozione. Sicuramente, credo che questo sia anche legato a quello che dici tu l'altro giorno, insomma essere lontani dal palco per tanto tempo crea poi un'adrenalina diversa, uno stato di ansia nel calcare nuovamente un palco e quindi insomma è difficile mantenere il punto. Prima di parlare di Epic Fail, perché ce ne sono stati veramente, veramente, veramente tanti, ultimo duetto che ha particolarmente scosso la critica è quello tra Francesca Micheline e Fedez, Fedez che questa volta finalmente si è divertito fin troppo, ha saltato, ballato, cantato, e hanno pensato a qualcosa di molto particolare perché infatti hanno fatto medley, delle canzoni non solo San Reimesi più note di duetti, ma hanno anche portato sul palco due canzoni di due loro amici, Daniele Silvestri e Calculta, e hanno cantato Del Verde e le cose che abbiamo in comune, insieme a fiumi di parole, felicità. Infatti c'è stata questa chiosa con felicità nel quale erano fermi immobili, un po' di calcare anche Albano e Romina Power con questi vestiti molto particolari e questi ballettini in ritmo un po' polca. Sì, credo che insomma la tranquillità per Fedez sia arrivata grazie alla telefonata di Leone, quindi insomma si è placato e questo contatto con la famiglia sicuramente lo ha aiutato, però questa scelta devo dire è stata molto divertente e molto particolare perché ecco sono due cantanti che non si insediscono in uno stile ben preciso, soprattutto quando si parla di Festival di Sanremo, quindi queste scelte sono state particolari e hanno fatto anche divertire il pubblico e sicuramente insomma anche Fedez è riuscito a lasciarsi andare. L'abito era un po' discutibile, però non fa niente, insomma lo perdoniamo perché almeno si è divertito. È vero, ci stava. Epic Fail ritorna nella nostra classifica dei peggiori. Bugo, che ha fortemente deluso e le aspettative, ha combinato un caos in primis, come il suo solito ormai proprio a quest'aura di combina guai sul palco dell'Ariston, ma soprattutto mi ha deluso tantissimo con i pinguini tattici, mi aspettavo tanto e invece sinceramente sono riusciti a rovinarsi l'uno con l'altro. Gioiva invece da casa Morgan. Esatto, che poi dice, i social subito hanno beccato, che nella prima esibizione di Bugo, non buco, come ho detto ieri, la prima esibizione di Bugo Morgan era a casa in contemporanea, ha ricantato la canzone dello scorso festival, quindi un genio. Io credo che ci sia insomma qualche tecnica, qualcosa, che invidi segnali negativi all'Ariston e che sicuramente questo video di Morgan fa ridere, però Bugo insomma, non lo conoscevamo come cantante. Se non fosse stato per Morgan e lo sketch dell'anno scorso, nessuno sapeva della sua esistenza. È verissimo. Quindi dobbiamo dirlo. Però insomma l'opportunità adesso di essere il protagonista è sbaglia, quindi c'è qualcosa che non va in lui insomma. I pinguini tattici sono stati anche manchevoli, devo dire, mi aspettavo qualcosa in più. Secondo me è proprio per non sovrassarlo, quindi giustamente hanno abbassato l'asticella in difetto. Altro momento che sinceramente non mi è piaciuto assolutamente, che è arrivato all'uno e mezzo e gli ho deciso di chiudere il televisore perché era arrivato il mio momento psicologico, proprio perché non ho potuto resistere a questo affronto, i Comacose che hanno cantato il mio canto libero. Una tragedia musicale, Elvira, veramente. Io non so, prima di tutto, è fastidioso che cantino ancora l'uno di fronte all'altro, vi salutiamo ovviamente per queste belle parole. Vi vogliamo bene. Esatto, vi vogliamo bene, però veramente non scomodate più Lucio Battisti, vi prego, ma poi sbavature, stonature, veramente una brutta performa. Dico la verità, io sono crollata prima. Hai fatto bene. Lo ammetto. E visto insomma quello che mi stai dicendo sono contenta perché almeno le orecchie hanno smesso di sanguinare in tempo giusto. L'ho sentita però stamattina mentre arrivavo qui e devo dire la verità che insomma non riesco a trovare un nesso in questo gruppo, gruppo, duetto, gemelli, non so come definirli, cioè fidanzati, sono strani, sono strani sul serio. E anche questa tragedia che è stata fatta su una canzone così importante di certo non gli permetterà di portare a casa insomma nessun festival ma neppure insomma il pubblico dopo Sanremo perché il disastro è stato poi continuo dalla prima serata fino ad oggi quindi insomma non c'è nessun progresso. No, ma infatti anche perché secondo me si tratta di quelle canzoni veramente intoccabili, cioè puoi farla cantare un grandissimo della musica, non so Massimo Ranieri ora il primo nome che mi viene in mente ovviamente sono generi completamente diversi ma in questi momenti è veramente un colpo autoinflitto che si poteva assolutamente evitare. Classifica, poiché siamo quasi in chiusura, grandissimo successo ancora una volta per El Malmeta, i suoi mandolini e la sua Caruso con un'interpretazione veramente molto molto intensa ed è ancora lì al primo posto. Al secondo Anna Lisa che devo dire la verità ieri mi ha un po' deluso sia come outfit sembrava essere pronta per fare serata quindi è un po' troppo sbarazzino diciamo per la serata ottima la scelta di Federico Poggi Pollini che mi piace tantissimo uno dei migliori chitarristi d'Italia. Alla numero 3 l'avevamo detto Willy Peiote che si conferma altissimo in classifica recupera posizioni alla 4 ovviamente questa è la classifica generale Arisa. numero 5 con le sue mega iper registrazioni c'è Irama che non molla infatti figuriamoci se in prova era già perfetto immaginiamoci dal vivo sul palco dell'Ariston. Questa devo dire che è una pagina un pochino brutta di Sanremo però sono contenta che gli abbiano dato insomma questa opportunità perché effettivamente insomma è sfortunato però piace quindi anche il testo della canzone, la possibilità di poter fare un duetto insomma sono tutte cose che mancano in questo momento che è una pagina di rama che però può seguire da casa la sua escalation rilassato e riposato rispetto invece agli altri. Grandissimi consensi anche per Orietta Berti in betta in seconda posizione rispetto alle votazioni dell'orchestra e che devo dire la verità ha scelto anche un bel duetto con un quartetto di ragazze dalle voci fantastiche veramente bravissima infatti a un certo punto stavo guardando il duetto ero distratta che stavo scrivendo degli appunti ed è partito l'acuto ho detto wow mamma mia Orietta Berti ha una voce fantastica invece era subentrata la ragazza del quartetto però assolutamente bella performance e ha abbandonato anche le conchiglie per fortuna ha abbandonato le conchiglie e ritornata al suo outfit classico sempre abbastanza visibile insomma però veramente veramente una bella performance e brava Orietta perché porti in alto il nome della musica italiana classica ma quella vera cioè proprio l'interpretazione classica bello così vorremmo senza strafare e questo credo il fulcro di tutto non bisogna strafare bisogna cercare di rimanere saldi a quelli che sono poi i principi della Kermess e allo stesso tempo insomma cercare di emozionare le persone gli altri stanno sbagliando ecco lapidaria ma precisa come sempre noi siamo in chiusura però ve l'avevamo promesso il gossip finale già da ieri infatti non ne abbiamo parlato in quanto duetto poiché aspettiamo la nuova performance per commentare la sua foga finale ma ne parliamo in quanto paparazzato con un possibile flirt stiamo parlando di Aliello che già nelle settimane scorse era stato avvicinato alla bellissima Laura Torrisi ex di Pieraccioni e sembra ci fosse del tenero tra i due personaggi anche abbastanza diversi tra loro quelle coppie che non ti aspetti sì e ci troviamo in questo periodo davanti a coppie che non ci aspettiamo da nessuna delle parti però devo dire che insomma questo flirt poteva essere qualcosa di positivo anche per Aliello perché insomma era una persona completamente diversa dal suo stile però insomma nutro meno fiducia nei confronti della ragazza perché sostanzialmente non è che abbia alle spalle una situazione insomma sentimentale e favoribile però pare che sia un fake insomma sì sembra che sia un fake infatti a Aliello a Sanremo si è dichiarato single ora che sia strategia o meno non è dato sapere anche perché parla sempre di questi amori distrutti di questa vita complicata quindi non vediamo al momento felicità in ciò che canta e anche la Torrisi si sarebbe dichiarata single bellissima donna bravissima attrice quindi sembra che al momento o si tratti di fake o effettivamente abbiano avuto questa leson e sia anche finita in questo momento fugace e tutto è possibile ciò che ha un principio e anche una fine questa è la storia della nostra vita come sono saggia oggi però però insomma negare un amore un po' esagerato spero per loro che ci sia stato che si siano divertiti e che poi insomma è finita male per divergenze insomma caratteriali però da qui a farne un affare di stato perché non sono stati insieme insomma è un po' esagerato concordo come sempre noi siamo in chiusura grazie mille per averci seguito in questo viaggio nella terza serata di Sanremo ma anche con i nostri pettegolezzi ritorneremo più forti che mai con tutti gli inciuci del momento che dobbiamo commentare un Gian sempre più innamorato ormai sforna foto con cuori come se non ci fosse un domani veramente un tasso di diabete altissimo nel guardare le sue storie ma lo faremo nella prossima puntata grazie mille Elvira grazie Alessia e grazie a voi che ci avete seguito alla prossima con Gossip Mania grazie a tutti